Mi dispiace moltissimo di quello che è successo, andrò a trovarlo non appena poi lui e la famiglia lo vorranno perché penso che questi momenti devono essere dedicati soprattutto ai propri cari e non ad altro. Io ho chiesto che tutti gli incontri venissero annullati oggi, non mi sembra corretto che oggi e domani si tengano incontri, confronti con i candidati, con l'assenza di Sergio Giordani. Comincia così con un sentito pensiero rivolto all'avversario politico Sergio Giordani, l'intervento del candidato sindaco Massimo Bitonci, a seguito della richiesta di archiviazione da parte della procura dell'inchiesta sul nuovo ospedale a Padova Est, nata dall'esposto del deputato Alessandro Naccarato. Certo che questa campagna torale si svuota di argomenti perché nei momenti in cui avevano puntato tutto quanto su delle illegittimità o su degli affari sporchi sotto la questione di Padova Est, ci troviamo invece delle indagini in corso su Padova Ovest. Chi ci ripagherà sulla caduta dell'amministrazione dello scorso anno e su quello che hanno subito in questi sei mesi i Padovani? Chi ci ripagherà? Ci ripagherà Naccarato ed è per quello che verrà denunciato per calunnia, perché ovviamente è il passaggio successivo e io spero che Naccarato rinunci alla sua immunità parlamentare.